Dopo 16 anni la riforma dei servizi sociali è un passo importante per la Regione Lazio? Sì, è un passo importante, l'abbiamo detto anche in Aula in occasione della dichiarazione finale al termine della votazione, prima della votazione della legge. Un passo importante perché finalmente questa Regione, dopo 16 anni, si adegua a quella che è la normativa nazionale, cioè la legge 328 del 2000. Una legge importante che affronta moltissimi temi. Noi ci siamo astenuti in quell'occasione perché abbiamo dei dubbi, dei dubbi dovuti innanzitutto al fatto delle risorse economiche che vengono messe in campo per la moltiplicità degli interventi che la stessa legge propone. Il secondo dubbio che abbiamo avuto è sul fatto che questa legge è una legge di recipimento che a stavolta però delega la Giunta per molti aspetti. Quindi diciamo una legge non subito effettiva, non subito a portata del cittadino ma che dovrà attendere per alcuni pezzi che la Giunta regionale emane i propri regolamenti. Quindi lo Stato ci dà la delega, noi deleghiamo la Giunta, quindi ancora un passaggio di delega per troppi punti e poi la questione economica che già vi ho spiegato. Ecco, la legge quali e quanti interventi prevede da un lato e poi la Regione d'altro canto dove avrebbe pensato invece di reperire i fondi necessari? Allora, sui fondi necessari sarà argomento del prossimo Consiglio regionale, quello di fine anno dove andremo a studiare il bilancio. Quindi vedremo un po' la Regione dove e come vorrà dar veramente vita a questa legge. Mentre invece per quanto riguarda che cosa si propone, beh sono 71 articoli, si passa dal sociale per gli anziani a quello per i bambini fino ad arrivare a come noi abbiamo proposto per i malati, per i bambini e gli adolescenti con disagio psichico. Quindi diciamo che gli interventi sono tantissimi e va a riformare anche quelli che sono i distretti sociosanitari, quindi va a rimettere al posto, va a ridisegnare un pochettino questo connubio che deve essere fra la sanità e il sociale. Insomma di questioni ne puntualizza parecchi e ne focalizza un po' meno, però diciamo che è una legge che aspettavamo che noi comunque non ci siamo sentiti votare i contrari per i dubbi appunto sul punto di vista economico e su queste deliche che daranno vita poi veramente a questa legge. Quindi molti dubbi e perplessità, però c'è qualche aspetto più concreto a suo parere per esempio per quanto riguarda la disabilità? Se ne è parlato a lungo soprattutto nel Lazio, esiste una sorta di soluzione abbozzata da questa nuova legge? No, questa è una legge di principi, soluzioni ce ne sono un po' pochini, si prevedono però dei percorsi, quindi si va a normare quello che è il percorso del disabile come i vari percorsi per gli anziani, come i percorsi per i malati psichici. Quindi si fanno dei percorsi, adesso questi percorsi vanno però tradotti all'interno dei distretti sociosanitari. Fino ad oggi non eravamo neanche quelli, quindi diciamo che è un passo avanti però ancora da vedere. Insomma, ci avremo tempo per controllare come la Giunta vorrà operare e dar veramente poi corpo a questa che è una legge importante ma ancora troppo di principio. Porrello, invece in merito agli operatori di settore, quelli che si occupano di servizi sociali, molto spesso si è dato impulso al volontariato, quindi tutto ci è andato a detrimento di chi davvero ha fatto di questo mestiere la sua professione. La legge prevede un benefit anche per loro, un inquadramento migliore? No, quello no, su questo punto non è nulla, questa è una legge di riforma dei servizi sociali e gli operatori dei servizi sociali purtroppo non sono inseriti in questa legge. Invece per quanto riguarda la sanità più in generale, qualche novità? No, purtroppo no. Sulla sanità in generale siamo ancora in pieno di rientro, si fanno assunzioni qua e là senza neanche ben capire con quale criteri si vanno a inserire personale, senza dare risposte vere e certe agli esigenzi del cittadino che, come sappiamo, soffre di una sanità che non risponde ai propri bisogni. Ci sono tante riforme, il Presidente Zinitetti mette in campo sempre riforme, ma poi basta girare un po' per gli ospedali e si vedono che ancora i pronto soccorso sono tutti intasati. Questo perché? Perché le case della salute, che è un progetto che ha messo in campo Zingaretti, l'ha messo in campo a metà. Non è riuscito a fare veramente quello che queste case salute prevedevano, cioè andare a scaricare tutti i pronto soccorso di quei codici bianchi o verdi, che sono magari malati cronici che invece devono essere presi in carico dai distretti sociosanitari da queste nuove strutture. Non ci sono, sono fatte male, non ci sono i percorsi diagnostici, terapeutici e quindi la gente continua ad andare a pronto soccorso. Quindi vedete un pensiero forse corretto, ma che in realtà si traduce solo con propaganda e questo fa della sanità il disastro che continuiamo a vedere, che ancora c'è.